Formazione! Sissignore! Pronto! Formazione! 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 Pronto! 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 Formazione! Pronto! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Continuate l'attacco! Vi respingiamo, signore! Vi respingiamo, signore! Sì, è vero! Sì, è vero! Sì, è vero! Sì, signore! Sì, signore! Sì, signore! Sì, signore! Sì, signore! Pronto, signore! Formazione! Sì, signore! Sì, signore! Sì, signore! Sì, signore! Sì, signore! Formazione! Sì, signore! Pronto! Pronto! Sì, signore! Sì, signore! Chiếcouras Autre Chi Sì, signore! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Avanzate! Vi respingiamo, signore! Avanzate! Avanzate! Continuate l'attacco! Avanzate! Avanzate! Risparatevi! Avanzate! 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 Continuate l'attacco! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Vi respingiamo, signore! Grazie a tutti! Fuoco nemico! Grazie a tutti! 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 Pronto! Grazie a tutti! Pronto! No... Grazie a tutti! Formazione! Grazie a tutti! Sì, signore! Grazie a tutti! 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 Pronto, signore! Grazie a tutti! Pronto! Grazie a tutti! Grazie a tutti! No... Pronto! Grazie a tutti! 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 Pronto! Pronto, signore! Grazie a tutti! Forza! Pronto! Pronto! Signore! Pronto! Pronto, signore! Pronto! 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 Pronto, signore! Pronto! 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 Pronto, signore! Pronto! 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 A presto! Pronto! 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 Formazione! Pronto! 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 Grazie a tutti. 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 Pronto. 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 Pronto, signore. Pronto. 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 Sì, sì, sì. Formazione! Sì signore! Formazione! Sì signore! Pronto! Sì signore! Pronto! 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 Sì, non è vero. Sì, signore! Sì, signore! Pronto, signore! Pronto, signore! Sì, signore! Sì, signore! Sì, signore! Sì, signore! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Pronto, signore. Formazione. 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 Grazie a tutti. 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 Formazione! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Formazione! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Pronto! Grazie a tutti. Pronto! 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 Pronto, signore! Pronto! 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 Pronto, signore! Pronto! 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 ! ! Pronto! 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 Attenzione! Signore! Li respingiamo, signore! Formazione! Continuate l'attacco! Sì, signore! Sì, signore! Sì, signore! Continuate l'attacco! Sì, signore! Pronto! Sì, signore! Li respingiamo, signore! Li respingiamo, signore! Sì, signore! Sì, signore! Sì! Sì! Pronto, signore. Formazione. Sì, signore. Pronto, signore. Formazione. Pronto. Pronto, signore. Sì, signore. Continuate l'attacco. Pronto, signore. Pronto, signore. Formazione. Li respingiamo, signore. Pronto, signore. Pronto, signore. Pronto, signore. Pronto, signore. Pronto, signore. Continuate ad avanzare! Sparatevi. Formazione. Pronto, signore. Sì, signore. Sì, signore. Continuate l'attacco. Pronto, signore. Pronto, signore. Pronto, signore. Continuate l'attacco. Sì, signore. Sì, signore. Sì, signore. Pregno. Programmi. Sì, signore. Sì, signore. Sì, signore. Formazione. Sì Sì, signore. Sì, signore. 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 Pronto! Sì signore! Formazione! Pronto signore! Sì! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Pronto. Pronto, signore. Pronto, signore. Pronto. Formazione. 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 Pronto. 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 Siamo. Pronto. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.